Bella a tutti Forniters, benvenuti e bentrovati su LeopTube, eccoci in questo video per andare a fare l'incarico danneggio ai giocatori nemici con un'arma interamente modificata e allora per avere l'arma modificata nel più breve tempo possibile dobbiamo andare ad eliminare un boss, eccola qua, l'arma con le 4 modifiche oppure dobbiamo aspettare il terzo cerchio della tempesta ed entrare in uno dei bunker delle armi sperando di trovare un'arma modificata oppure andando a modificarne una delle nostre mettendoci comunque 4 modifiche eccoci qua a questo punto non ci rimane che andare a cercare degli avversari allora eccoci qua, avversari li abbiamo trovati quindi ora non ci resta che andarli a colpire con la nostra arma con le 4 modifiche eccolo qua, perfetto, così facciamo anche quella di colpirli alla testa se dovessimo riuscire a colpirli alla testa ora proviamo a beccare quest'altro dovremmo trovarne un bel po' ok, perfetto, siamo già a 258 ragazzi e così ci va avanti per tutto il tempo se il video vi è stato d'aiuto e vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti